Chi tu? Allora, innanzitutto vorrei farvi fare un applauso per un mancini che ha visto il mio padre. Il mio padre è rimasto a coltare il mare per noi. Volevo l'unico! Soprattutto sono anni che ci conosciamo, sono anni che ci vediamo a Roma. No, ci siamo in forza a Roma, che dico? Quindi, niente, era il momento di ritornare. Bene, noi siamo felicissimi di stare qui insieme a Roma Mancini, a Benito Corradini e a tutti voi.